Una mano tesa in un momento di difficoltà del Comune di Andria per non perdere un patrimonio di tutti. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, giustifica così il contributo straordinario concesso per la realizzazione della 22esima edizione del Festival di Teatro Castel dei Mondi di Andria. Presente per la prima nazionale di Cirque Vost, che dopo il micado del 2017 con lo spettacolo Bo ha proposto Epicycle, Emiliano si è goduto lo spettacolo che tra acrobazie ed evoluzioni funamboliche lo ha letteralmente tenuto con il fiato sospeso, come racconterà alla fine dell'esibizione al direttore di produzione Francesco Fisfola. Emiliano sembra un convinto sostenitore della manifestazione salvata accogliendo l'emendamento presentato dai consiglieri regionali Marmo e Zinni, che quindi esenta il Comune da esbordare i corsi economici. Con la cultura, dice Emiliano, non si hanno ritorni economici diretti, ma i benefici sono altissimi. Andrea, ovviamente se dicessi stasera che è una città turistica, ovviamente qualcuno potrebbe prendermi per matto, però sembrerà strano. La cultura può rendere città turistica anche una città industriale, anche una città con tanti problemi. Fermo restando che poi può fornire ai cittadini e agli amministratori delle idee di cambiamento che possono rivoluzionare anche una situazione che viene giudicata da qualcuno molto difficile, anzi ha un'urbanistica storica estremamente complessa, ha una dimensione enorme rispetto forse alle gambe strutturali che la città ha. Però sono convinto e sono fiducioso che questa comunità troverà il modo per aprirsi al mondo. Certo, è un'edizione del festival che gioca in difesa, a non perdere gli spazi e il prestigio conquistato. È uno dei cinque festival di teatro più importanti d'Italia, il primo del Meridione. E se il ritardo negli adempimenti del Comune, che ne ha differito la partenza nonostante le certezze offerte dalla Regione, ha comunque una ricaduta negativa sull'efficacia di questa edizione, peggio sarebbe stato farla saltare completamente. Il Comune, diciamo, come succede in questi momenti difficili per tutte le città italiane, ha avuto bisogno di un aiuto maggiore e naturalmente la Regione non si è tirata indietro perché ci sono delle manifestazioni che caratterizzano un intero anno. Questa è una manifestazione che da tantissimi anni il Comune ha sostenuto e quindi mi sembrava giusto dare una mano.